Leggere ovunque, autori stranieri che scrivono in lingua italiana, sì avete capito bene, scrittori non madrelingua, autori di testi, per lo più romanzi, nella lingua del bel paese. Si contano sulla punta delle dita, di cui la particolarità della rassegna nata dall'idea di Associazione Informare e Rivista Camastra e con il contributo dell'Istituto Comprensivo Schweitzer, teatro dell'inusuale iniziativa, un'insolita aula, un bar di termoli. Abbiamo scelto proprio questo argomento, leggere in italiano e leggere ovunque, perché noi tuteliamo le minoranze linguistiche, tutte le lingue del bacino del Mediterraneo nel nostro centro studi, però anche favoriamo la lettura in italiano. Abbiamo fatto l'opportunità di far incontrare i ragazzi la scrittrice Gian Palairi. Grazie a Camasta, grazie a Informare abbiamo avuto questa opportunità e quindi abbiamo letto dei brani di un romanzo scritto da lei in lingua italiana. Abbiamo potuto riflettere sull'importanza della lingua di una prima e di una seconda, in questo caso anche di una terza lingua. Abbiamo estrapolato dal testo una parte dove la scrittrice spiega che lei ha preso appunti, diciamo, come appunti di viaggio e come faceva Matisse le ha messe insieme con la tecnica del collage, quindi ha unito queste cose. Alle letture è seguito un laboratorio di composizione artistico-letteraria che ha visto protagonisti proprio gli studenti. È stata un'iniziativa, secondo me, abbiamo fatto solo noi, quindi secondo me noi ringraziamo i nostri professori ed è stata molto creativa, molto bella. Provare anche qualcosa di diverso da stare sempre attaccati agli schermi, è stato bello appunto elaborare cose nostre da zero. È stata sicuramente una bellissima iniziativa, diversa dalle altre, quindi anche una bella esperienza che non abbiamo mai svolto. E se uno straniero, per amore della nostra lingua, riesce a scrivere in italiano, perché non sforzarsi un po' di più di leggere l'altra, è proprio il caso di dire, lezione per gli studenti.